Dall'autore del bestseller La legione occulta dell'impero romano Roberto Genovesi, un nuovo avvincente romanzo storico che ci regala tutto il fascino del passato, il Templare Nero, Tiberiade, anno domini 1187. La reliquia della vera cruce viene conquistata dall'esercito del Saladino in una delle più cruente battaglie per il dominio della Terra Santa, ma se la storia vi avesse detto solo una parte della verità? Se dietro alla scomparsa dei simboli del cristianesimo vi fosse una forza inarrestabile, pronta a distruggere l'umanità servendosi dell'odio dei suoi eserciti? Un Templare che non crede in Dio, un imperatore deciso a stupire il mondo, dalla battaglia di Hattin alla marcia trionfale di Federico di Svevia a Gerusalemme, la storia che non vi hanno voluto mai raccontare.